Subito una doppia seduta per la Fiorentina e Viola, dopo l'allenamento di stamani, sono tornati in campo per riprendere il ritmo intrapreso ormai tre settimane fa al Centro Sportivo di Firenze. Una seduta incentrata sul possesso palla, le ripartenze ed il pressing alto con un Mattias Fernandez subito nel vivo dei movimenti di squadra chiesti dal tecnico Gigliato. Domani, sempre al Centro Sportivo di Moena, Viola Channel trasmetterà a partire dalle 17.20, la diretta streaming di Fiorentina Fassa Calcio. Dopo il gioco a PES, se mi riprendo, oh 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 yes, fumo un po' e dopo il gioco a PES. Oggi voglio stare sul divano collassato, frate passo solo dalla Champions League al campionato. Dio, crossami la palla che rovescio, intorno a me c'è tutta la curva della Playstation. Aspirano poi fanno cori e gesti tipo alle oh oh oh, siamo tutti fuori messi tipo le oh oh oh. Sono un goleador, zio, il boss del turnover, come a De Bayor, prima punta, numero 9. Dribro finché scrocchiano le dita, frate, tanto qui c'è birra e guida. L'antidolorifico per la partita, calcio champagne, smarcato Neymar, patto, gol profumato, zio, Paco Rabanne. Compro e vendo giocatori dal Nintendo, vecchia scuola, sono re del mercato come Mino Raiola. Sono pronto al match, frate, io le dita coi tacchetti, tu dammi solo una torcia, un amorezzo. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES, patto Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES, accendo e dico oh oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES, se mi riprendo oh 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 yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Passo il tempo sul microfono e resto all'Xbox, faccio yes yes yo, yes yes pro. Lagi la pula e nel posto senti come suona, dedicato a chi ha il diploma eppure non lavora. Dedicato ai miei fratelli con lavori strani, tipo che iniziano la sera fino all'indomani. Per comprare nuove Nike e giochi della Play, salotto 5 metri quadri, siamo in 26. King del divano, sto al caldo, segno con Cristiano Ronaldo, su sta poltrona sto talmente tanto che lascio, il segno delle cappe quando mi alzo, slego il polso, occhio rosso basso. Il basso è una sberla, due tiri sull'erba e penso di essere nella leggenda di Zelda. Baby Rolla per me, lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Patomex S, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Scusa baby adesso no, questa notte faccio sport. E giuro che ti chiamerò, ma stasera proprio no. Ora non ho tempo per parlare, c'è che qui devo dribbare. Sulla base di Don Joe, dal divano vado in gol. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Patomex S, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes.